Grande risultato per il navigatore della Biella Corsa, Tiziano Pieri, che nei giorni scorsi, in coppia con il pilota Davide Nicelli, ha gareggiato e vinto la seconda prova del CR Sparco Junior 2022, corsa nell'ambito del 29esimo rally dell'Adriatico. Siamo partiti decisi a riscattare il non risultato della prima gara del nostro campionato, ha commentato il biellese Tiziano al termine. E' stata dura perché abbiamo corso contro avversari molto forti, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto. Va ricordato che Davide Nicelli e Tiziano Pieri, che quest'anno con la loro Renault Clio Rally 5, classe 1600, prendono parte al CR Sparco Junior, il campionato italiano assoluto rally organizzato da AC Team Italia per valorizzare i giovani talenti italiani, sono arrivati all'Adriatico con l'handicap della battuta d'arresto in cui sono incappati alla Sanremo, gara finita anzitempo, quando erano i vertici della loro classifica, a causa di un'uscita di strada. A Urbino, invece, è andato tutto bene. Nicelli e Pieri si sono piazzati al primo posto, hanno nuovamente vinto la Power Stage, che anche qui, come già Sanremo, era la prima speciale del rally, e, come aggiunge Tiziano, ci siamo tirati su il morale. Va anche ricordato che, nella classifica della gara, si sono piazzati al primo posto di gruppo e di classe e al 26esimo posto assoluto, oltre ad aver vinto la prova valida per il CR Sparco Junior. Grazie a questo risultato, ai 6 punti guadagnati vincendo le due Power Stage, Sanremo, corsa prima del ritiro e Adriatico, si sono rifatti sotto nella classifica del campionato, dove ora sono terzi assoluti con 26 punti. Il primo ne ha 39, il secondo 29. Anche se si correva su terra, continua Tiziano, terreno per noi non abituale, all'Adriatico siamo sempre stati incisivi. La gara è stata molto combattuta, anche perché ci confrontiamo con avversari molto forti. Vorrà dire che affronteremo le prossime prove della stagione ancora più determinati. Articolato in gare su terra, come l'Adriatico, e gare su asfalto, come il Sanremo, il CR Sparco Junior proseguirà ora con un'altra prova su terra. Il rally di San Marino si correrà all'inizio di luglio. Ci saranno poi altre tre gare, tutte su asfalto. Il rally di Roma Capitale, sempre a luglio, il rally Mille Miglia di Brescia, a inizio agosto, e quindi nel finale di stagione il rally Due Valli di Verona, a ottobre.